Airbus Group conferma gli obiettivi per quest'anno, forte di un 2015 all'insegna della crescita. L'anno scorso ha infatti registrato un aumento del 15% dell'utile netto, che si è attestato a 2,7 miliardi di euro dai 2,3 miliardi del 2014. Abbiamo assistito ad un nuovo anno in cui l'aviazione civile ha mostrato un buon andamento. I nostri clienti, credetici o no, sono finanziariamente in forma grazie al prezzo del petrolio e del cherosene. Nel 2016 il costruttore europeo intende superare i 650 ordini dopo i 635 fatti registrare fino a dicembre scorso e i 620 nel 2014. Il prezzo del petrolio è già basso e potrebbe scendere ancora. Ma non è una condizione che siamo certi resterà inalterata a lungo termine. Il prezzo potrebbe risalire a 50, 60, 70 dollari al barile. Le compagnie aeree continueranno quindi a cercare velivoli più efficienti sul piano del carburante. Nel 2015 i ricavi sono aumentati del 6% per un valore di 64 miliardi di euro, tendenza che secondo Airbus si confermerà nel 2016. È un problema per un valore di 25 miliardi di euro. È un problema per un valore di generale.